Lo avete sentito, intanto il giornale continua a indagare sul presunto utilizzo improprio delle proprietà dell'Alleanza Nazionale da parte di persone vicine al Presidente della Camera Fini, ma l'ultimo testimone che secondo il giornale avrebbe visto Fini a Montecarlo ha smentito l'intervista, ha annunciato azioni legali contro il quotidiano della famiglia Berlusconi. Il servizio è di Matteo Parlato. Il duello tra il giornale e il Presidente della Camera Fini continua colpi di cucina componibile e scoltanti rivelazioni sulla casa appartenuta d'Alleanza Nazionale a Montecarlo. Attacchi respinti al mittente come illazioni e accuse false dal portavoce del Presidente della Camera. La lotta tra i giornali legati alla maggioranza e Fini è destinata a regalarci ancora molti giorni di rivelazioni e querele, un martellamento continuo di cui è difficile prevedere l'esito, con il giornale che svela le sue carte un poco alla volta, con sempre nuovi testimoni, tra spedizionieri, ambasciatori e vicini di casa. Anche se però quest'ultimo presunto testimone ha smentito e annuncia querela contro il quotidiano diretto da Feltri. Il giornale sostiene la tesi secondo cui l'ex segretario di Alleanza Nazionale ha mentito sull'uso di soldi e di proprietà del suo ex partito. Il Presidente della Camera è entrato nelle attenzioni del giornale dopo aver sollevato la questione della legalità all'interno del PDL. Tanto è bastato perché il giornale della famiglia Berlusconi aprisse il rubinetto e ora la cucina componibile ha preso il posto della legalità.